Da questo re, no, non è sempre un accordo dominante, possiamo andare sia qui, considerando l'accordo di settima come un accordo della scala Frigian Dominant e questo come se fossimo appunto nella scala di Mi. Quindi creando, tipo nel flamenco, il primo accordo di settima e il secondo di settima più, quindi la stessa cosa la facciamo qua, chiaramente con degli apporti cromatici, delle modifiche cromatiche, perché qui c'ho il Mi naturale e qui ci sarà comunque il Mi memore, quindi sempre del multimodal. Oppure, se voglio fare una cosa più normale, faccio da un semplice dominante tonico e vado verso un banalissimo ma bello Sol, settima maggiore, qui dopo avrà la sua tonalità, ma se vogliamo. Questo è lo schermo. Grazie. Grazie. Grazie.